...70 kg classe B, si preparino Ceccarelli, D'Amico Francesco, Paglos Capriere, Sondano, Monopio e Fanti Lott di Galileo. A seguire dopo questo match ci sarà il primo match Ceccarelli e D'Amico Francesco. Ciccione, la vista è qui. Vai sotto, di barba. Bravo. Vai, passa. Gira, gira, gira. Vai più basso, vai più basso. Gira, gira. L'altro caso. Bania, bravo, c'è. Bravo Andrea. Sì, sì. Saluto, vado pure. Bravo Andrea. Vai Andrea. grazie 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.